E' stato calcolato sulla base delle persone che prenderebbero la cabinovia è stato considerato una occupazione di 1,35 persone per auto questo comunque in ogni caso, anche se fosse giusto, equivale a circa l'1,25% del traffico quindi come si fa a dire che c'è una riduzione sostanziale importante di traffico cioè mi va bene valutare un risparmio di CO2, di una CO2 non emessa perché quella macchina non scende a Trieste, mi sta benissimo si può discutere, cioè non l'accendo quindi inquino di meno perché non emetto CO2, quindi la macchina resta ferma perché uso la cabinovia però nei calcoli fatti dall'ingegner Lamanna recentemente c'è scritto che dato che io non uso quella macchina anche tutta la CO2 che viene emessa per costruire quella macchina viene risparmiata e questo è impossibile perché quella macchina esiste già anche se io la bruciassi, se la vedo, comunque ho già consumato non lo faccio sparire, cioè il tema è quindi quella macchina ha avuto un costo di CO2 di CO2 per realizzarla nel suo ciclo di vita, quindi qual è la percentuale reale di calcolo allora della CO2 è quella che viene risparmiata nella fase d'uso, punto, null'altro il valore che è stato utilizzato per calcolare le emissioni di CO2 quei famosi 2500 tonnellate di CO2 all'anno è di 163 grammi per chilometro questo è un dato totalmente, diciamo così, non realistico di quella che può essere l'emissione di un'automobile andiamo a vedere la classifica, la graduatoria delle auto che emettono poco ma troviamo macchine che già oggi emettono 70, 80, 90, 100 grammi di CO2 per chilometro quindi 163 è un numero enorme la terza colonna, mettendo tutto insieme, otteniamo 600 sempre negative, quindi sempre un vantaggio di 600 tonnellate di CO2 all'anno però attenzione, utilizzando i 163 grammi per chilometro, grammi di CO2 emessi per chilometro che dicevo prima che non saranno credibili nei prossimi decenni che non sono credibili nei prossimi decenni perché inquineranno sempre meno le auto assolutamente, se mettiamo un valore un po' più serio, un po' più ragionevole cioè mettiamo 100 grammi per chilometro che è un numero molto ragionevole guarda un po', otteniamo che addirittura non c'è un risparmio di CO2 ma c'è un aggravio di CO2 cioè le emissioni di CO2 sono superiori se la cabinovia va in funzione